Ciao, mi chiamo Maria Bertolini e sono una naturalista del Muse che si occupa di ambiente, natura ed educazione ambientale. Oggi parleremo di paesaggio, del suo significato, del legame che c'è tra noi e il paesaggio e dell'importanza del prendersene cura. Non mancheranno però qualche aneddoto e qualche narrazione. Paesaggio è un termine difficile da circoscrivere, per certi versi è una parola ambigua, scivolosa. Proprio per queste ragioni oggi si abusa molto di questo termine e lo si confonde con altri termini, quali ambiente, natura, territorio. Il paesaggio è tutt'altro che semplice. Leggere un paesaggio è come leggere un libro, una storia fatta di diversi elementi e personaggi dislocati nell'arco di un tempo anche molto lungo, in un determinato spazio. Il paesaggio richiede una grande capacità di guardare profondo, non superficiale. Guardare sia i dettagli che però all'insieme. È un guardare che diventa interpretare. Di paesaggio trattano tutte le discipline, sia quelle scientifiche, sia quelle umanistiche e storiche. Ciascuna utilizza la propria metodologia d'indagine, i propri strumenti e il proprio linguaggio tecnico. Lo trattano e lo studiano architetti, geografi, ingegneri, pianificatori di territori, amministratori, economisti, naturalisti, fisici, biologi, scrittori, poeti, artisti, filosofi, psicologi e sociologi. Insomma non c'è ambito di conoscenza che non maneggi il paesaggio. Ma il paesaggio non è una novità. In passato molti scrittori, poeti e artisti lo hanno decantato, narrato e dipinto. Alcuni esempi. Manzoni nei suoi Promessi Sposi ha dedicato molti capitoli per descrivere i paesaggi in cui ha collocato i personaggi e le vicende. Se ci facciamo caso, quei paesaggi rispecchiano gli stati d'animo dei personaggi e delle loro storie. Paesaggi bui, grigi, nebbiosi, freddi dove gli avvenimenti sono tristi e negativi. Viceversa paesaggi luminosi, aperti, solari, dove i sentimenti sono di speranza. Come non ricordare Leopardi con l'infinito, attraverso cui lui cerca un rapporto profondo con tutto ciò che lo circonda, con i suoi paesaggi marchigiani. Le descrizioni di quei luoghi della sua vita sono la descrizione dei suoi stati d'animo. Che dire poi del paesaggio raffigurato alle spalle della Gioconda? Per scoprire l'identità della famosa Mona Lisa, molti artisti e ricercatori hanno puntato l'attenzione proprio al paesaggio alle sue spalle. Inizialmente era stato collocato in Toscana, ma attraverso una recente indagine di geologia e geomorfologia e attraverso ricerche topografiche e geografiche, quel paesaggio è stato individuato nella zona delle prealpi lombarde. Tutti noi siamo incappati prima o poi sia a scuola che al di fuori di essa nella nostra quotidianità nel termine paesaggio. Quante volte abbiamo detto che bel paesaggio magari affacciandoci da un punto panoramico, in montagna o al mare o semplicemente dalla finestra di casa. La maggior parte delle persone a cui è stato chiesto che cos'è il paesaggio secondo te? Ci ha risposto il panorama. Giusto nulla da obiettare il paesaggio è anche panorama. Pensiamo all'etimo della parola pan, tutto o rama, vista. Quindi il paesaggio è visione del tutto. Ma il paesaggio è solo panorama? È così semplice e lineare oppure più articolato e complesso? Siamo solo spettatori di paesaggi oppure rivestiamo altri ruoli nei confronti di esso. Il nostro termine italiano paesaggio corrisponde a paesaggio in francese, landscape in inglese e landschaft in tedesco. I termini paesaggio e paesaggio si assomigliano molto, hanno radici in comune. Una prima parte data da paese e paese, paese. La seconda parte è un suffisso age che significa vista d'insieme. Quindi mettendo insieme i due termini potrebbe il paesaggio suonare così. Il paesaggio è un insieme di cui fa parte il paese. Se guardiamo invece il landscape potrebbero essere tradotti così, territorio costruito. Comunque i quattro termini hanno tutti un elemento in comune, cioè la presenza dell'uomo che è un costruttore, costruisce luoghi di vita. Luoghi di vita intesi come paese ma anche come territorio costruito. L'uomo quindi è un costruttore di paesaggi ma è anche un osservatore di paesaggi. Pensiamo al termine panorama che abbiamo visto poc'anzi. Ne risulta quindi per l'uomo un duplice ruolo, quello di osservatore che contempla l'aspetto estetico del paesaggio è quello di costruttore, di attore principale. Eugenio Turri, geografo, scrittore, viaggiatore, esperto di paesaggio, proprio per questo duplice ruolo rivestito dall'uomo ci presenta il paesaggio con una semplice ma efficacissima metafora, quella del teatro, dove il palcoscenico è il pianeta Terra, la scena è il territorio e l'uomo con le sue infinite recite, azioni, dà senso e significato ai paesaggi. Ma in quel teatro l'uomo è anche uno spettatore che osserva e contempla ciò che ha fatto. Turri ci dice anche questo, l'uomo dopo aver recitato la sua parte, cioè dopo aver agito, guarda quello che ha fatto, rifà, reagisce e poi nuovamente riguarda. L'uomo cioè continua in un circuito senza fine a passare da un ruolo ad un altro in questa sorta di teatro. Quello che più conta è imparare a vedere in questa sorta di teatro perché solo guardando bene si impara ad agire bene. L'uomo quindi ha un ruolo di grande responsabilità nei confronti di tutti i luoghi, di tutti i paesaggi costruiti nel tempo, paesaggi urbani, peri urbani, rurali, alpini, degradati e paesaggi dell'abbandono. Un meraviglioso libricino scritto nel 1953 da Jean Junot, l'uomo che piantava gli alberi, ci parla di paesaggio in modo completo, spiegandone attraverso la vita del protagonista, Elzehar Bouffier, la complessità del paesaggio e l'importanza del prendersene cura. Elzehar vive solo in un'arida vallata delle Alpi in Provenza e decide di migliorare quel luogo desolato e abbandonato dalle comunità senza più boschi né corsi di acqua né altre forme di vita. Con grande perseveranza e cura Elzehar pianta cento semi di quercia al giorno e piano piano riforesta ettari di suolo arido. Si ricompone così un paesaggio ospitale dove rifanno la loro comparsa differenti specie vegetali e animali. L'acqua ritorna in pozze antiche che si erano prosciugati. Insieme alla vita compaiono i soli dell'acqua, del vento fra le foglie. La gente si accorge di questa inattesa trasformazione e decide di tornare a vivere lì. Elzehar con la sua cura ha ricreato un luogo, un paesaggio dove poter vivere bene. Ha trasformato cioè un posto degradato dall'incuria di una comunità, un brutto paesaggio, in un bel paesaggio ricco di varietà di vita dove si aveva voglia di vivere. In questo breve racconto c'è tutto il senso e il significato di paesaggio. Un altro aspetto interessante del paesaggio è la sua sonorità. Infatti un paesaggio non è solo da guardare ma anche da ascoltare. Questo concetto lo ha teorizzato un famoso compositore ecologista musicista Murray Schaffer che per primo coniò il termine inglese di soundscape. Egli non ne diede solo la definizione ma categorizzò tutti i suoni presenti in un paesaggio e per ogni epoca storica descrisse i possibili paesaggi sonori. Nel paesaggio quindi lui dice vi sono le toniche, i segnali e le impronte sonore. Le toniche sono i suoni che stanno sullo sfondo, i suoni della natura ad esempio il cinguettio di un uccellino, il vento, l'acqua, la pioggia ma anche il rumore del traffico in un'autostrada. Vi sono poi i segnali, i suoni improvvisi, brevi, forti che attirano la nostra attenzione. Sovrastano tutte le toniche. Può essere una sirena di un'ambulanza, un claxon, un fischietto, un freno di una moto. E infine ci sono le impronte sonore che sono i suoni che caratterizzano una comunità. Sono segnali di sincronizzazione sociale. Può essere una sirena di una fabbrica, una campana. Quando in una comunità si identifica una impronta sonora bisognerebbe salvaguardarla perché proprio in quel suono la comunità si identifica, si riconosce e avverte un'appartenenza territoriale. Un esempio di paesaggio sonoro lo ritroviamo nella poesia di Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto. È la descrizione di un paesaggio sonoro prodotto dalla pioggia estiva che cade sulle foglie delle diverse piante, dai suoni e versi degli insetti e di tutti gli animali che popolano quel bosco. Il poeta ci invita all'ascolto e alle sensazioni e percezioni diverse che produce questa immersione naturale. Parlando di paesaggio è doveroso citare la Convenzione europea del paesaggio, redata nel 2000 dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa. La particolarità è che riconosce in ugual misura tutti i paesaggi, sia quelli belli sia quelli degradati, e dà pari dignità agli alimenti naturali e antropici che costituiscono un paesaggio. Inoltre per la prima volta si parla del valore della percezione da parte dell'uomo. All'articolo 1 della Convenzione viene data la definizione completa di paesaggio, mentre l'articolo 2 pone l'attenzione sull'importanza della salvaguardia di tutti i paesaggi, al di là della loro bellezza, della loro originalità. Ad oggi quasi tutti gli stati membri del Consiglio d'Europa hanno ratificato la Convenzione, ne hanno condiviso la definizione, ma anche le azioni da adottare per la salvaguardia di tutti i paesaggi. Abbiamo quindi cercato di fare una sintesi dei tanti concetti visti fino adesso e sono qui elencati e se dovessimo tradurlo in un'unica frase potremmo dire che il paesaggio è un bene comune che appartiene all'individuo ma anche alle comunità di cui esso fa parte. L'augurio quindi è ora che voi guardiate con occhio più attento, profondo e consapevole tutti i paesaggi che incontrerete, con la voglia di conoscerli e rispettarli e prendervene cura. Buon paesaggio a tutti!